secondo te ho fatto in questi ultimi due sono riuscita a rasa tu ogni volta che caghi dovresti ringraziare la tua merda perché senza merda tu saresti morto dovrebbe essere la polizia però avete un numero diverso quindi non pensavo e mi dispiace tanto però purtroppo un amico stava facendo uno scherzo mi ha detto che dovevo chiamare un amico suo e ha fatto uno scherzo a me e mi ha fatto parlare questo numero è stato uno scherzo infelice lo so ma non l'ho fatto io consapevolmente quindi le chiedo scusa adesso subito ho risposto mi dispiace io appena ho sentito ho sentito la polizia guarda io non so che dirle che le devo dire adesso mi sono trovato grazie a tutti